Bene, facciamo ancora qualche esercizio sulla classificazione, dominio e segni della funzione e oggi, magari un pochino più avanti, aggiungiamo anche il concetto di parità La volta scorsa abbiamo iniziato un esercizio dove avevamo in realtà due funzioni leggermente diverse di questo tipo, iniziamo con questa Qui abbiamo a che fare con una funzione che è analitica algebrica, certo, analitica algebrica Irrazionale Questo a causa del fatto che ho la x sotto radice Ed è fratta Perché ho la x a denominatore Ok? Per esaminare o attribuire un grado a questa equazione, a questa funzione È necessario trasformarla in razionale, deve andare via la radice In terra, deve andare via il denominatore Quindi elevo il quadrato, ottengo per andare via la radice Ottengo y a seconda uguale a x meno 1 fratto x E moltiplico per il denominatore x y a seconda uguale a x meno 1 Questo monomio È di grado 3 Perché sommo gli esponenti x a esponente 1 1 più 2 fa 3 Quindi la mia funzione è analitica, razionale, algebrica Irrazionale fratta Di grado Terzo, no quarto, scusate Di terzo grado Ok? Fin qui tutto bene Il dominio Vi ricordo che il dominio di una funzione È l'insieme dei numeri reali Per i quali la funzione è calcolabile Quindi per i quali esiste Y uguale a f di x Ed è un numero reale Cioè traduce a parò, in simboli L'espressione, la funzione è calcolabile Riesco A operare quanto prescritto dalla f Quindi eseguo tutte operazioni Fattibili Fattibili nel senso che danno un risultato D'accordo? Come procedo per capire qual è il dominio? Beh in realtà torno un attimo indietro Per questo è importante la classificazione Perché la classificazione mi dice cosa fare Il fatto che la funzione è irrazionale Cioè c'è la radice E soprattutto in questo caso La radice di indice pari Mi dice Attenzione la funzione esiste Se sotto radice ho qualcosa di non negativo Ok? Quindi questo Punto della classificazione Mi dice come Scegliere il dominio Dopodiché il fatto che è fratta In realtà Lo metteremo dentro Allo studio del segno del radicando Evitando che il denominatore Si annulli Ok? Quindi Torniamo a noi La funzione y Uguale a radice quadrata Di x meno 1 Fratto x È un numero reale Cioè è calcolabile Se Irradicando C'è quello che c'è sotto radice Questa parte Non è negativa Cioè x meno 1 Fratto x È maggiore O uguale a 0 Il radicando può essere nullo Perché la radice di 0 Fa 0 Vi ricordo che la radice di un numero È quel numero che ha moltiplicato Per se stesso E vi dà ciò che c'è sotto radice E 0 per 0 Fa 0 Ok? Quindi Per trovare attenzione Il dominio Della funzione Cerco Il segno Del radicando Quindi risolviamo Questa disequazione fratta Qui ho un numeratore Che è x meno 1 Che è positivo Se x è più grande Di 1 Un denominatore Che è positivo Se è positivo Perché il denominatore È solo x Quindi è automaticamente Risolto La disequazione Del denominatore Andiamo a confrontare I segni Del numeratore Del denominatore Quest'asse riporta I valori della x Qui ho due valori notevoli Lo 0 e l'1 Questi li leggo da qui E quindi E quindi Divido l'asse delle x In tre intervalli Il numeratore Nella fattispecie x meno 1 È positivo A destra Di 1 E nullo in 1 Il denominatore Il denominatore Nella fattispecie x È positivo A destra Dello 0 Negativo A sinistra E in 0 Si annulla E questo è un valore Vietato Perché il denominatore Non posso mai annullarlo Se voglio calcolare La funzione Morale della favola A sinistra Di 0 La funzione Il radicando È positivo In 0 Il radicando Non esiste Perché comporta La divisione Per 0 Tra 0 e 1 È negativo A destra Di 1 E nullo A destra Di 1 È positivo Quindi La condizione Imposta In questo punto Cioè il fatto Che radicando Sia positivo O nullo È risolta In questo intervallo E in questo Cioè Se x È minore Strettamente Minore di 0 Oppure Maggiore O uguale a 1 L'1 è un valore Accettabile Perché ha nulla E radicando Mentre lo 0 No Ok Quindi Il dominio Della nostra funzione È formato Ripeto Dai numeri Reali Minori di 0 Oppure Più grandi O uguali A 1 Se x Appartiene Al dominio Ok Dato che Y È uguale A X Al limite Nullo Quindi Tutto il suo dominio La funzione È positiva Perché è una radice sola Non devo combinarle Di più Di una radice Ce n'è una sola Di conseguenza Di conseguenza Il segno È automaticamente Fatto Cioè Qualunque sia La x Appartenente Al dominio Della funzione La funzione Sta sopra L'asse Dell'x Dovunque Esiste Graficamente Questo cosa Significa Mettiamo Insieme Queste due Informazioni E abbiamo Due punti Notevoli Lo 0 Che cade qui E l'1 Che cade qui Andiamo A separarli In 0 La funzione Non esiste In 1 Vale 0 Ok Abbiamo visto Che Tra Mettiamolo qua In rosso Ecco Il dominio È formato Dai numeri A sinistra Di 0 Quindi Qui La funzione È positiva Quindi qui sotto Non esiste Il grafico Non sta sotto Perché non è positiva E a destra Di 1 Dove anche È positiva Mentre Tra 0 E 1 La funzione Non è né Negativa Né positiva Perché radicando È negativo Quindi la funzione Non esiste E dove esiste È un segno Più E inoltre Passa per 1 0 Attenzione a questo Intervallo Tra 0 E 1 Il radicando È negativo Quindi la funzione Non c'è Perché se do A x Un valore complesso Tra 0 E 1 Quello che devo mettere Sotto radice Ha un segno Negativo Quindi non posso Calcolarla Quindi non è Né sopra Né sotto L'asse Dell'x Proprio non c'è In quell'intervallo Non c'è Grafico della funzione Il grafico c'è A sinistra di 0 O a destra di 1 Ci siamo È tutto chiaro? Attenzione a questo Che cosa cambia Se anziché la funzione di prima Avessimo questa Attenzione Radice di x-1 Fratto Radice di x Qual è la differenza? Beh la differenza Qui è il fatto che Le due parti x-1 E x Cioè Quello che prima erano Il numeratore Il denominatore Del radicando Adesso sono due radici distinte Questo cambia qualcosa Certo che cambia qualcosa Perché La regola Che a suo tempo Abbiamo visto Quei radicali Cioè La radice Di un rapporto X uguale al rapporto Delle radici È condizionata Il fatto che Le radici Esistano Cioè Non posso avere A sinistra Qualcosa Che posso calcolare A sinistra Qualcosa Che non posso calcolare Ok È necessario Che tutti Questi termini Siano Igualmente Reali Calcolabili Cosa Che qui Non è garantita Attenzione Ma andiamo Per grado La classificazione È identica Che alla precedente Che alla precedente Il quadrato Le radici Spariscono Moltiplico Per x E sono a posto Ok Di conseguenza La funzione È sempre Analitica Algebrica Algebrica Irrazionale Ed è fratta È di terzo grado Questo non cambia Andiamoci a vedere Il dominio Qui ho due radici Non più una E devono esistere Entrambe Per gli stessi x Quindi Il numeratore Della funzione Ha un radicando Fatemi Riscrivere Y È Radice Di x Meno 1 Fratto Radice Di x Questa È un numero Reale Se Il Radice Al numeratore Ha un radicando Maggiore O uguale A 0 E la radice Al denominatore Ha un radicando Maggiore Di 0 Per gli stessi x Perché qui Prima calcolo il radicando Dopo faccio il rapporto Mentre In quella di prima No Quindi Mentre Nella funzione di prima Con un'unica radice Qui potevo avere La possibilità Che Di avere Un numero negativo Al numeratore Un numero negativo Al denominatore Meno diviso meno Fa più Qui andava bene Il radicando esiste Ma qui invece no Se ho Un numero Un radicando Se x meno 1 è negativo E x è negativo Questa funzione Non esiste Non posso fare La radice Di un numero negativo E dopo Dividerla Quindi questo Cambia le cose Questo come Lo formalizzo Beh il fatto Che le due Radici Devono esistere Insieme Significa che Al numeratore x meno 1 Deve essere maggiore O uguale a 0 Il denominatore x deve essere Maggiore di 0 Ma così Devono esistere Insieme Cioè Un sistema Di disequazioni Quindi Devo risolvere La prima disequazione Avrò Un insieme Di soluzioni Chiamiamolo S1 Devo risolvere La seconda S2 E il sistema È risolto Dall'intersezione Delle due disequazioni Cioè S1 Intersecato A S2 Cioè Devono essere Vere Entrambe Per gli stessi X Non devo fare Un prodotto Di grandezza Quindi Devo fare Un sistema Di disequazioni Cioè Devo risolvere Una tabella Vero Vero Falso Non più o meno Mi spiego meglio Qui Risolvere Il sistema È quasi Immediato Basta Spostare L'1 A destra X Maggiore Uguale A 1 Risolve La prima Disequazione X Maggiore Di 0 Risolve La seconda Adesso Andiamo a fare Quest'operazione Intersechiamo Le due Soluzioni Quindi Questo Risolve La prima Disequazione Questo Risolve La seconda Il sistema Questo simbolo La graffa Dice Attenzione Devono essere Vere La prima Equazione E anche La seconda Quindi Devo Intersecare I due Sistemi Facciamo La classica Tabella Dove Ho comunque 0 e 1 I due Valori Notevoli La prima Disequazione S1 Cioè X Maggiore Uguale A 1 Significa Che La prima Disequazione Del sistema È risolta A destra Di 1 Quindi Qui è Vera Qui è Falsa In 1 E 1 È compreso La seconda Disequazione È risolta A destra Di 0 Qui è falsa Qui è vera Qui è vera Qui invece Questo è escluso Quando è che S1 È intersecato A S2 È vero Quando Sono veri Simultaneamente Quindi In questo intervallo Per cui Avrò Che A sinistra Di 1 Il sistema È falso Mentre È verificato A destra Di 1 Con 1 Compreso Quindi Il dominio È dato Da tutti i numeri Più grandi O uguali A 1 Cioè Il dominio Della nostra Funzione Con le due Radici Separate È dato Da tutti I numeri Reali Maggiore Non esiste Né il numeratore Né il denominatore Quindi A maggior ragione Non esiste Il loro rapporto È chiara La differenza Qui Anche in questo caso Nel Il segno È automaticamente Risolto Nel Il segno La y È maggiore O uguale a 0 Per tutte le x Del dominio Per le stesse Ragioni di prima Perché dovunque Esiste la radice Numeratore Ha il suo segno Davanti Dovunque esiste La radice Del dominatore Ha il suo segno Che ha davanti E più diviso Più Fa più Non ci sono segni Diverse Tra numeratore E denominatore È lo stesso segno Quindi per ogni x Del dominio La funzione È positiva O male che vada È nulla È nulla Nel punto x È uguale a 1 No Dipende da come è fatta Dipende da come sono fatte Le funzioni Se fosse La prima radice Meno la seconda Dovrei risolvere Una disequazione Irrazionale Che mi dà il segno Cioè dovrei sapere Quale delle due radici È più grande Dell'altra Per sapere Se la differenza Da più o meno Graficamente Questo come lo interpreto Beh Il grafico Sarà identico A quello di prima Tranne nella parte A sinistra Di 0 Qui ho l'1 A sinistra di 1 La funzione non esiste Quindi non è né sopra Né sotto A destra di 1 È positiva Quindi butto via La parte sotto Quindi a segno È più E in 1 Si annulla A destra di 1 Il grafico Tra La funzione Questa e quella precedente Sono identici Però la nuova funzione Quella con le radici separate Non ha La parte sinistra Di 0 O meglio Ce l'avrebbe Se lavorassimo Con i numeri complessi Non con i numeri reali In campo complesso Ce l'ha Ma quello Non abbiamo Tempo Nel modo Di farlo È tutto chiaro? Benissimo Detto questo Vediamo ancora Un esempio Per introdurre Il concetto Di parità Immaginate Una funzione Molto semplice Immaginate F di x Uguale a x Alla seconda Questa che funzione è? Che grafico ha? Una Una Parabola Perfetta Per un attimo Ho avuto un brivido Meno male Che sono seduto Una parabola La più semplice Di tutte Quindi Ha un grafico Di Scusate Di questo tipo Ok Per ogni Valore positivo Passiamo Nero qua Per ogni x Calcolo L'ordinata E ottengo Lo stesso valore Che avrei Se la x Fosse negativa Cioè Se faccio x alla seconda Ottengo lo stesso valore Che facessi Meno x Alla seconda Questo è legato Al fatto che Il L'espressione È una potenza Della x Con l'esponente Pari Se fosse x Alla quarta Avrebbe la stessa Proprietà Da cui Questo si può Generalizzare Se Ho una funzione Che rispetta Questa proprietà Cioè Calcolare la funzione In x O calcolarla Nell'opposto Della x Mi dà Lo stesso risultato Allora Dico che F di x È una funzione Pari Che significa Pari Si comporta Come Una potenza Di esponente Pari Della x Ok Osservate Che Nel caso Che la funzione Sia pari Tipo la parabola Rispetto in questo caso Su asse Il grafico È simmetrico Se al posto Della y Mette uno specchio Questo ramo Si riflette esattamente In questo Quindi La parità Ha importanti Risvolti Grafici Una funzione Pari È anche Simmetrica Rispetto All'asse y Delle ordinate Ok La proprietà Inversa È questa Immaginate Di avere Una funzione Di tipo F di x Uguale A x Molto semplice Qui l'esponente È dispari Anche qui Il grafico È elementare È una retta Che passa Dall'origine Y Uguale a x In questo caso Qualunque x Io scelga La y Che ottengo È esattamente Opposta A quella Che avrei Se cambiassi Il segno Alla x Cioè F di 3 È l'opposto Di f di meno 3 Quindi se cambio Segno a x Cambio segno Anche a y Prima Cambiare segno Alla x Lasciava Alla y Invariata Qui Cambiare segno Alla x Cambia segno Alla y Il valore Rimane lo stesso Ma il segno Cambia Quando questo accade Dico che la funzione È disparita Questo si riferisce All'esponente Della x Cioè Si comporta Come una potenza Dispari Della x Alla x Alla x